Buongiorno a tutti, sono Davide Brovelli del ristorante Assuro di Ranco. Siamo qui al buon gusto del Tigros di Bugugiate e parliamo di alimentazione e bellezza e alimentazione e salute. Molto importante è il concetto dell'alimento sano e il principio è che vengano scelti gli alimenti e ci sia un equilibrio tra i vari nutrienti, che i nutrienti siano stagionali e genuini e che ci sia una moderazione nel loro utilizzo. Il cibo deve essere visto come un alleato per la nostra salute e quando si mangia bene, si è ben digerito, ci si sente bene e si è anche più belli. Gli alimenti possono veramente influire sulla salute e perché no anche sulla bellezza. Molto bello che ci sia questo tentativo di sensibilizzare l'utente perché davvero la dieta sana e corretta può portare dei grossi benefici. Siamo qui oggi a presentare quattro ricette che vi racconto e riassumo brevemente. Abbiamo un carpaccio di barbabietola, delle barbabietole fresche, quindi cotte in una specie di vin brulé, con anche questo un pizzico di formaggio di capra, delle coste e un estratto di costa. Abbiamo una zuppetta di quinoa con delle verdurine al forno e un pesto di ceci. Dopodiché finiremo con delle polpettine di miglio impanate con delle verdure croccanti all'interno. Buon appetito a tutti!